Musica Ok raga, sfida accettata, questo video deve raggiungere 100 mi piace Condividetelo con tutti quanti, vostra nonna, vostro padre, vostra madre, tutti gli amici che conoscete Tutte le persone che conoscete perché dobbiamo arrivare a 100 mi piace E ho deciso di fare questa sfida perché nel mio canale non abbiamo mai raggiunto un numero simile E quindi se voglio provarci, quindi dobbiamo arrivare a 100 mi piace Hai lasciato like? Hai lasciato like? Hai lasciato like? Non vedo ancora Lascia like, lascia like, lascia like, non hai ancora lasciato like? Ve lo dirò fino alla morte perché dobbiamo arrivare a 100 mi piace Condividetelo su tutti i social, ricordatevi, questo video deve arrivare a 100 mi piace Lascia like, lascia like, non hai ancora lasciato like?